Maestro, chiedo scusa. Sono arrivati i fratelli Yen. Vogliono sfidarti. Come osano quei due pazzi. Non sono alla mia altezza. Presto, Sam, portali prima al cimitero. Fagli vedere le tombe degli altri sfidanti. Vedrai che cambieranno idea. Agli ordini. Allora, queste sono le tombe degli sfidanti del mio maestro. È qui che verrete a marcire fra poco. Ma forse è presto per morire. Siete ancora giovani? Corri dal tuo padrone. Vogliamo sfidarlo, non ci fai paura. Corri dal tuo padrone. Ahahahahha Oh, ah! Sì, sì, sì. Semplice. Semplice.